Noi per Sanremo, direttamente dalla Città dei Fiori, Mimmo Moramarco e Pamela Franco. Tutte le curiosità, approfondimenti, interviste e tanto altro per l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Noi per Sanremo, in collaborazione con Pasta Jesce, il gusto delle cose semplici, www.pastajesce.it Nicolai, Divani e Poltrone Philosophy Collection, complementi, cuscini e puff. Scopri le nuove collezioni su www.nicolain.it Burger King, scorri, gusta, condividi, burgerking.it Eleva Service, ristrutturazioni di qualità, 349-6344-625 Touchdown, Event, Fun and Food, Strada Statale Ionica 106 Metapunto Matera Touchdown, l'impero del divertimento E-T System, impianti tecnologici rinnovabili E-T System, la nuova energia a portata di mano Modo ADV by MDNet Il nuovo modo di fare pubblicità 3711-760-706 вет google www.nicolain.it Un saluto agli amici della Puglia! E allora come vedete siamo da Sanremo, siamo collegati ancora una volta da Sanremo, oggi parte la terza puntata del Festival di Sanremo, ma innanzitutto vediamo appunto, facciamo diciamo un riassunto della seconda puntata di ieri. Allora, per quanto riguarda la seconda serata del Festival di Sanremo, il momento più alto della serata è stata l'uscita del maestro Giovanni Allevi, che sicuramente ha emozionato tutti dal teatro, sia dal teatro che da casa. Poi ovviamente è arrivata la seconda classifica provvisoria e questa volta da parte delle radio e degli telespettatori. Ma rispetto alla prima serata c'è l'ingresso di Irama e Jolie. Vediamo nello specifico partendo dalla quinta posizione di Mahmoud, poi vediamo Loredana Bertè che scende al quarto posto, terzo posto la canzone di Anna Lisa e al secondo posto c'è l'ingresso di Irama e al primo posto qui abbiamo un eclatante e nuovo ingresso di Jolie. Sanremo ha ricordato il ballo liscio dei Casa Dei, celebrando all'Ariston l'anniversario di Romagna Magna Mia. Ma le sorprese non sono terminate qui poiché c'è stata tanto attesa per l'altro ospite ospite introdotto da Giorgia John Travolta che ovviamente ha ballato con Amadeus all'interno del teatro Ariston e all'esterno con Fiorello in un siparietto basato sul ballo del Quacqua. Piazza Colombo ha visto la presenza di Rosa Chemical che ha riproposto il successo dell'anno scorso con Made in Italy. E infine c'è stata un'ottima prestazione della madrina della seconda serata del Festival di Sanremo ovvero Giorgia che ha ricordato tutti i suoi successi e l'anniversario di E Poi. E come vedete alle mie spalle c'è la fantastica nave di Costa che appunto ieri nella seconda puntata del Festival di Sanremo ha ospitato il grande artista e appunto DJ Bob Sinclair che appunto ieri ha fatto veramente ballare tutti gli ospiti presenti a bordo. Grazie a tutti. 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 Buono sei il panzerotto pugliese è buonissimo. E il riso e patate e cozza pure? Anche. Piatto preferibile. Grazie. Da dove venite? Da Sanremo da molto lontano. Come è Giulietto? È bello. Bella e bravo. Un saluto a Bari Ciao Bari, un bacione da Sanremo È lui, è lui Tutta la vita Secondo voi chi vince Sanremo? Angelina Mango Angelina Mango perché? È molto brava Troppo brava Troppo brava Vince Sanremo Annalisa Annalisa ma ha detto così o perché è veramente brava? Ma io la trovo brava, sì Da dove venite? Sanremo Secondo voi chi vince Sanremo? Annalisa Annalisa perché? Bella, orecchiabile, mi piace Chi vince Sanremo? È un'enegba Per lei? Cosa? Chi vince Sanremo? La figlia di Mango Angelina 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 Ciao Bari La terza serata di Sanremo, uscita i abbinamenti dei cantanti in gara, il 3 presentato da Loredana Bertè, Maninni presentato da Alfa, Bunker 44 presentati da Fred De Palma, Santi Francesi presentati da Clara, Mr. Rain presentato da Il Volo, Rose Villain presentata da Gazzella, Alessandra Amoroso presentata da Danger D'Amico, Ricchi e Poveri presentati da Big Mama, Angelina Mango presentata da Irama, Diodato presentato da The Colors, Gali presentato da Mahmood, Negramaro presentati da Emma, Fiorella Mannoia presentata da Anna-Lisa, San Giovanni presentato da Renga, Lassad presentati da Joliet. Noi per Sanremo, direttamente dalla Città dei Fiori, Mimmo Moramarco e Pamela Franco, tutte le curiosità, approfondimenti, interviste e tanto altro per l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Noi per Sanremo, in collaborazione con Pasta Iesce, il gusto delle cose semplici, www.pastayesce.it Nicolain Divani e poltrone philosophy collection, complementi, cuscini e puff Scopri le nuove collezioni su www.nicolain.it Burger King Scorri, gusta, condividi Burger King.it Eleva Service Ristrutturazioni di qualità 349-6344-625 Touchdown Event Fun in Food Strada Statale Ionica 106 Metapunto Matera Touchdown L'impero del divertimento ET System Impianti tecnologici rinnovabili ET System La nuova energia a portata di mano Modo ADV by MDNet Il nuovo modo di fare pubblicità 3711-760-706